Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei mostrarvi con un pochino di ritardo in realtà come sempre, però non importa, quello che è stato il regalo dell'azienda per cui lavoro, è una sorta di video haul anche se in realtà non sono acquisti i miei, però vi mostro quelli che sono i prodotti che ho appunto ricevuto e di cui sono assolutamente contenta come sempre, perché come sapete sono i pochi prodotti costosi che possiedo che ovviamente non ho quasi mai acquistato io, perché raramente acquisto prodotti high cost, ma generalmente sto appunto su low cost che mi piace tantissimo, però ovviamente quando riesco ad avere tra le mie manine qualcosa di succulento come questi prodotti sono super contenta e quindi vorrei appunto mostrarveli, sono tutti qua dentro, scusate sia l'aspetto che la voce, ma purtroppo non sto per niente bene e però vabbè, al lavoro bisogna andare comunque, quindi ho detto allora posso anche fare un video ecco, se posso andare al lavoro vuol dire che posso anche fare un video e quindi, niente, comunque non ho approfittato, visco un attimino di tempo però ecco, perdonatemi per questo naso, il naso tutto tagliato, rosso e ogni tanto mi sentirete tossire e la voce è un po' quello che è comunque, torniamo noi allora, pesco dal sacchetto magico i prodotti devo dire che l'anno scorso mi piacevano un po' di più però vabbè, insomma, a cavaldonato non si guarda in bocca primo prodottino è un kit di Smashbox che come vedete all'interno ha tre prodotti un mascara, credo, in full size credo un mascara volumizzante una matita in gel nera e un primer volumizzante sì, full size mascara e deluxe size per l'eyeliner la matita e il primer non l'ho proprio neanche aperta ecco ovviamente allora, vi mostro tutto carina anche la carta così tutta sverlucicosa sono mignonne proprio vabbè sì, proprio mignonne abbiamo primer e matita e il mascara ecco qui fa sempre comodo comunque diciamo che è un kit molto carino perché mascara e matita sono quelle cose che si usano sempre oddio, io la matita in realtà non la uso molto spesso però fa sempre comodo averla diciamo, una matita nera e anche il mascara sicuramente quello si usa assolutamente sempre non ho l'idea del prezzo di questo kit detto proprio sinceramente ed è questo qua carino poi abbiamo uno spray una mist per i capelli che però non ho capito cosa serva di Aveda eccolo qui eccolo qui e vediamo se riesco a capire air aroma mist ah, è un profumo acqua aromatica para il cabello sì nebulizzante aromatico per capelli ah, vabbè carino non male non male a parte per il fatto che nell'inci al primo posto c'è l'alcol e sui miei capelli che sono già belli secchini di loro l'alcol non è proprio il massimo comunque vabbè ci sta si sente un po' così proviamo dai giusto per non lo so che profumo ha sinceramente mi sembra l'odore di di rosa di qualcosa di delicato non è male ma non mi fa neanche impazzire ma lo proverò insomma vediamo ecco qui poi di Stiloder invece abbiamo uno struccante ecco qui bifasico come si può ben notare questo si chiama take it away ed è uno struccante per occhi e labbra anche per il trucco a lunga durata per tutti i tipi di pelle sono 100 ml non ho idea del prezzo di questo prodotto ma sicuramente costerà però dovrebbe essere insomma uno struccante delicato per occhi e labbra che va bene appunto per le formule a lunga durata eccolo qui è un po' piccino nel senso che a me questo coso qua basterà nulla praticamente però cercherò insomma di centellinarlo essendo per occhi e labbra e visto che ho tra l'altro un acqua micellare che invece mi brucia tremendamente sugli occhi la uso solo sul viso e non so mai come struccarmi bene gli occhi magari abbinerò l'uso di questo prodotto proprio solo sugli occhi e appunto sul resto userò quell'acqua micellare quindi le userò in combo comunque apprezzato solo per il fatto che è di Estée Lauder come si può forse non so se si le ecco questi prodotti poi Clinique allora interessante anche questo kit a parte per il fatto che c'è un altro struccante e un altro mascara però vabbè fa niente nel senso che comunque ripeto sono cose che utilizziamo tutti i giorni sia lo struccante che il mascara quindi averne di scorta non mi dispiace questo non ho idea di quanto costi c'è scritto prezzo speciale meno 30% il mascara è high impact lash mascara effetto cilia finta mentre lo struccante il take the day off in versione appunto però liquida quindi non il burlo struccante dice che rimuove il trucco per insomma occhi ciglia e labbra anche questo ma insomma lo userò comunque su tutto il viso allora si struccante bifasico occhi e labbra e mascara volume leggerezza tenuta fino a 24 ore vabbè quindi questo qua carino diciamo poi passiamo al make up due rossettini allora uno è un paint on liquid lip color sempre di estel odor questo qui ve lo faccio vedere ed è tra l'altro una colorazione in metallica peccato per il colore perché è un po' fluo o poco portabile ve lo faccio vedere cioè non è che è poco portabile però insomma eh si non è proprio da tutti i giorni è bello bello carico sicuramente estivo carino eh non è male però non so se se renderà almeno non è il solito rossetto ecco ci sta carino lo proverò magari d'estate vi farò sapere uh che casino sto facendo mentre volevo farvi vedere anche gli altri di estel odor che avevo ehm come si dice come rossetti però allora uno e degli altri anni uno sempre pure color envy metallic metallic matt però dice e il colore è un fucsia anche questo importabile cioè quando mai metterò questo colore non lo so perché è proprio un fucsia freddo freddo neanche quelli che piacciono a me proprio troppo freddo troppo fucsia troppo barbie vabbè non per niente ce li hanno regalati però diciamo cacavaldonato non si guarda in bocca lo ripeto per cui va benissimo l'altro invece che decisamente invece preferisco è un'altra linea è la pure color love questo è il numero 130 ed è questo nude questo decisamente invece è un bellissimo colore questo è adorabile eccolo qui dal video risulta sfalsatissimo speriamo che in fase di editing sia un pochino meglio è un nude rosato molto 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 carino questo sì mi piace molto ok e poi tornando a noi vi faccio vedere l'altro rossetto questo è di tomford ecco qui questo non mi ricordo che colore sia il packaging vabbè è spettacolare proprio elegantissimo di super lusso proprio qua mi sto sparafasciando da sola ecco e anche qui abbiamo un color nude che mi dispiace persino provare perché c'è la scritta no però devo farvi vedere il colore ecco questo è fin troppo nude nel senso che è lucidino ecco qui è lucidino e manco si vede praticamente e sì non so cosa potrete vedere leggermente pescato molto molto chiaro e un po' trasparente quindi certo che anche io in che cazzo di posizione l'ho messo non lo so se riuscirete a vedere proviamo a spegnere un attimo questa qui vabbè così un pelino si vede ecco sì è un po' è un po' chiaro è proprio quei colorini lì da sciureta vabbè poi andando a noi qua mi pulisco un secondo poi abbiamo un profumo di Michael Kors questo qui è uno de toilette sono 70 ml questo in realtà io ce l'avevo anche nella versione piccola da 30 se non sbaglio sì e questo è invece grande Michael Kors extreme speed non lo apro perché in realtà pensavo di tenerlo come regalo ho il dubbio se sia per uomo e per donna in realtà non ne ho idea beh non lo so vabbè e ultima ma non per importanza anzi credo che sia la cosa che preferisco di tutto quanto Darfenn io adoro Darfenn questo è un formato viaggio tra l'altro un'edizione limitata una travel size ma chi si importa ed è una una crema una crema in gel tra l'altro quindi ottima anche per il mio tipo di pelle una crema idratante idra skin light gel cream idratazione continua insomma idratazione all day skin idrati gel cream gel vabbè vi faccio vedere che facciamo prima questa qui sono contentissima di questa gel crema idratante continua per pelle normale a mista vi faccio vedere poi tra l'altro i packaging sono deliziosi ecco qua troppo bello questa è veramente la cosa che ho preferito di più ovviamente e e nulla insomma ovviamente prima di aprire e provare questi prodotti ce ne passerà ecco un po' ve lo dico ve lo dico già però insomma ovviamente userò tutto li proverò e poi li vedrete sempre nei prodotti finiti terminati recensioni o quant'altro l'unica cosa dovete portare un po' di pazienza perché avendo tante cose insomma è difficile che riesca cioè ho accumulato più roba ad utilizzare rispetto a quella che poi effettivamente riesco a utilizzare quindi anche se uso tante cose ho finito tante cose in realtà quello che ho accumulato è veramente veramente tanto e me ne sto rendendo conto ultimamente quando mi vedo con delle cose in scadenza e sono lì che devo finire tutta sta roba vabbè ognuno ha le sue pecche diciamo così questa è un po' la mia e niente per questo video è tutto io spero che tutti questi prodottini vi siano piaciuti ditemi se avete provato qualcosa e come vi siete trovati e se di questi brand mi consigliate qualcosa in particolare quindi su Clinique 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 Smashbox Estée Lauder Aveda Michael Kors Tom Ford e Darfenn ma anche Glam Glow o cos'altro abbiamo poi anche Origins per esempio insomma se tra i brand Estée Lauder diciamo così c'è qualcosa che mi consigliate in modo particolare in modo che insomma possa farci un pensierino intanto vi saluto vi mando un bacione e alla prossima ciao 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 ciao